Buon pomeriggio, mi presento, mi chiamo Sergio Pagano, sono un docente di fisica di Università di Salerno, sono un fisico sperimentale che significa che io sto in laboratorio a avvitare bulloni, a mettere fili e fare queste cose carine che si fanno nei laboratori e mi occupo in particolare di superconduttività, che è una branca dello stato solido. Quello di cui parleremo oggi è un po' un'introduzione generale alla materia nello stato condensato, quello che si chiama fisico stato solido, naturalmente l'argomento è molto vasto, io cercheremo di fare due cose, uno evitare i formalismi, quindi evitare il formismo matematico complicato perché purtroppo questo tipo di fisica ha un formismo matematico complicato, due cercare di puntare per quanto possibile a degli spunti che siano trasferibili ai ragazzi per quanto riguarda sia esperienze sia piccoli calcoletti, qualcosa a tirare fuori, mirando a qualcosa di concreto, per cui faremo un escursus abbastanza lungo, nel senso che partiremo dal concetto di materia nello stato condensato per concentrarci su un aspetto delle proprietà della materia nello stato condensato che è la conduzione dell'elettricità e all'interno di questo ci focalizziamo su una classe di materiali che sono i semiconduttori, che sono quelli che sono la base della rivoluzione tecnologica che noi viviamo negli ultimi 50 anni e che ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere, per cui è importante poi far capire come questa rivoluzione è stata possibile solo grazie alle conoscenze sul meccanismo di funzionamento della materia che sono state sviluppate nei decenni precedenti. E poi faremo un focus, una particolare applicazione dei semiconduttori che è la cella solare e vedremo come costruire anche là un'esperienza per fare ai ragazzi, quindi cerchiamo di fare qualcosa di concreto, partendo dai principi base, quindi è un percorso complicato, durante questo percorso naturalmente facciamo sì che sia un dialogo a due, per cui interrompetemi, chiedetemi chiarimenti, insomma approfondiamo delle cose perché è importante trasferire al meglio l'informazione. Allora, cominciamo un po' dall'inizio. La fisica del stato solido, che cos'è? Ovviamente diceva che la stessa si occupa della materia nello stato solido, quindi sotto forma solido, ma quali sono le proprietà importanti della materia nel stato solido? Queste proprietà sono quelle che hanno le capacità dei corpi solidi di trasportare corrente elettrica, trasportare calore, trasportare vibrazioni, oppure reagire a effetti esterni tipo campi elettromagnetici o a temperatura. Questi sono i cambiamenti e le caratteristiche per la materia quando sta in quello che noi chiamiamo il stato solido. Ma che cos'è in fondo lo stato solido? Possiamo definirlo banalmente. Lo stato solido è quando abbiamo che gli atomi sono in posizione più o meno, diciamo, fissa uno rispetto agli altri. Diciamo più o meno perché non sono mai veramente fermi, anzi hanno un movimento inevitabile, come ci dice la meccanica quantistica, però di fatto conservano una posizione ciproca abbastanza fissata. Questa è la nostra definizione di stato solido, quindi un oggetto solido, un oggetto inquietato che stanno qua e non se ne vanno in giro per i fattitori. Un gas, un liquido è fatto diversamente. Una cosa importante da sottolineare è che in questa situazione il legame tra gli atomi che determina la solidà dell'oggetto in realtà coinvolge solamente gli elettroni più esterni di ogni singolo atomo. Sono quelli, cosiddetti elettroni di legame, come ci insegna la chimica, che sono quelli che fanno sì che gli oggetti si mantengono insieme. Gli altri elettroni, il nucleo e l'atomo, il resto la parte pesante e l'atomo sono praticamente quasi assenti in questo. Giocano un ruolo fondamentale gli elettroni e come vedremo, quindi giocano un ruolo fondamentale le interazioni tra gli elettroni e tra le cariche elettriche le interazioni di tipo elettromagnetico. Quelle saranno quelle che fondamentalmente giocheranno. E cosa c'è di interessante nella fisica stato solido? La fisica stato solido, per lo meno nell'accezione moderna, cioè quella che si è sviluppata dopo la seconda metà del secolo scorso, è una fisica in cui si spiega le proprietà dei corpi macroscopici, quindi proprietà che noi misuriamo in laboratorio, resistenza elettrica, che ne so, altre proprietà di questo tipo, sulla base però dei fenomeni microscopici, cioè degli atomi, quindi della meccanica quantistica che regola il comportamento dei singoli atomi e come questa si mettono insieme per creare le proprietà che noi misuriamo a livello macroscopico. Quindi c'è questo ponte tra il microscopio e il microscopio che è tipico della fisica è stato solido. Partiamo quindi dalla base, come è fatta la materia? Ovviamente la materia è fatta di atomi, gli atomi sono fatti di particelle più elementari che sono elettroni, protoni e neutroni. Sappiamo tutti che una rappresentazione possibile è chiaramente sbagliata, ma tutte le rappresentazioni pittoriche degli atomi sono sbagliate, perché in effetti noi non abbiamo i concetti che possono essere applicati mentali che possono funzionare nel mondo microscopico, perché noi viviamo nel mondo microscopico. Un modello di atomi però è quello in cui abbiamo un nucleo in cui sono i protoni e i neutroni e poi gli elettroni in qualche modo si girano attorno. Il nucleo è fatto a sua volta di altre particelle che sono i protoni e i neutroni e a sua volta queste sono fatte di altre particelle che sono i quark. Però come dicevo, questo giocherà in un ruolo piccolo nella nostra descrizione. Gli atomi aggregati insieme formano i cristalli, formano la materia del stato solido. L'atomo di per sé è un oggetto che noi abbiamo immaginato, abbiamo la dimostrazione di essenza degli atomi risale all'inizio del novecento, un po' anche quei lavori di Einstein ovviamente con il moto browniano, ma di fatto nessuno ha potuto mai vedere un atomo, fino a poco tempo fa. Quelle che vedete qua sono degli atomi, sono atomi di carbonio, visti come, non con un microscopio, perché con un microscopio non si può vedere un atomo, ma con quello che si chiama microscopio a forza atomica, che è una specie di puntina di giradischi che cammina sui materiali e risente della forza che c'è tra la puntina e gli atomi che sono così sensibili che la forza è modulata quando si passa su un atomo, da un atomo all'altro e descrive la forma. In realtà non è l'atomo, questa è la forza elettromagnetica che circonda un atomo, che respinge la puntina, di fatto localizza però dove l'atomo e ci fa capire come è vero che quello che noi immaginiamo, che i corpi sodio sono un insieme regolare di atomi, perché di fatti lo vediamo qua, questa regolarità. Come pure vediamo che ci sono anche delle regolarità ogni tanto, quindi la natura è abbastanza complessa, però tende ad avere una sua grande regolarità. E la cosa importante però, le scale, queste distanze qua sono distanze piccole, siamo sull'ordine di 10 a meno 10 metri, un angstrom, e un oggetto macroscopico è dell'ordine del millimetro, centimetro, facciamo a 10 alla 8 di differenza, che significa che il numero di atomi coinvolti in ogni oggetto macroscopico è sempre enorme. E questo è un'altra cosa che avrà un effetto importante. Ecco, qui abbiamo due rappresentazioni dell'atomo. Questa è quella più o meno classica di elettroni che gli elettroni hanno all'atomo, questa qua è quella della nuvola di elettroni, ma anche questa è sbagliata, perché gli elettroni non sono una nuvola, non sono un gas rarefatto. Questa nuvola serve rappresentare la probabilità di trovare elettroni, è un modo per rappresentare una funzione di densità di probabilità, che è la famosa Psi dell'equazione di Schrödinger, che dice la probabilità di trovare elettroni da qualche parte. Ci dice solo che è più probabile trovarlo verso il centro e non più lontano, ma l'elettrono non ha questa faccia, l'elettrono resta una particella, che sta da qualche parte. La mercata quantistica non ci permette di immaginarlo così come immaginano le particelle macroscopiche. Quindi è inutile provarci, non si sbaglia comunque. Le forze in gioco, quali sono le forze in gioco? Ovviamente sappiamo che forze della natura sono quattro, per lo meno se non andiamo su teorie moderne di unificazione, non ancora complete. Forze gravitazionali, elettromagnetiche, nucleare debole e nucleare forte. Queste forze sono molto differenti tra di loro e in particolare sappiamo che la forza nucleare debole e forte è attiva solamente su distanze molto piccole, dell'ordine della dimensione del nucleo dell'atomo. Il nucleo dell'atomo era questo oggetto qua, che è un centimillesimo della dimensione dell'atomo. Quindi è una particella infinita. Solo lì dentro le forze nucleari sono attive. Fuori, appena fuori dal nucleo dell'atomo, queste forze sono praticamente trascurabili. Dopodiché abbiamo elettromagnetiche gradizionali. Queste due invece no, queste sono a lungo range, come diciamo, vanno con l'inverso e con la distanza e arrivano fino all'infinito. Però andiamo a vedere un'altra cosa molto importante. Questo è il rapporto di forza tra quelle varie forze. Cioè se diamo uno alla forza nucleare forte, quanto sono intense le altre? E vediamo delle cose interessanti. Il nucleo dell'atomo è effettivamente uno su dieci o la tredici, quindi un decimo di milionesimo di milionesimo della forza nucleare forte. Quindi effettivamente è debole. L'elettromagnetica non è molto peggio, un centesimo della nucleare forte. Quello che un po' lascia sorprese è che la gravitazionale è uno su dieci o la trentotto. Quindi uno su dieci con trentotto zeri rispetto alla forza nucleare forte. Quindi rispetto all'elettromagnetica è uno su dieci o la trentasei, trentasei zeri. Perché queste sono le uniche due che noi possiamo misurare a distanze significative. Vedete che abbiamo due forze in gioco. uno è estremamente più grande dell'altra. Però qua succede un paradosso. Io questo oggetto qua ce l'ho in mano, sento il peso, quindi sento la forza gravitazionale del soggetto, non sento la forza elettromagnetica. Come la sente la forza elettromagnetica del soggetto? Non sento niente. Apparentemente. Perché non sento niente? Eppure 10 alla trentasei volte è più grande. Qual è la differenza? La differenza è che nel caso elettromagnetico abbiamo due cariche positive e negative. Le forze quindi si possono bilanciare, nel caso gravitazionale no. E quindi con questo oggetto le forze sono così perfettamente bilanciate che non c'è lo sbilanciamento neanche su una parte su 10 alla 36. Quindi è un bilanciamento incredibilmente perfetto. C'è un altro aspetto interessante. In realtà io la sento la forza elettromagnetica. Quando io schiaccio questo tra le dite, perché le dite non entrano dentro l'oggetto? Perché è solido. Perché è solido? Perché? Perché? Ma posso neanche pensare a Paoli. Basta pensare che gli elettroni del mio dito si respingeranno con gli elettroni di questo oggetto qua. Che gli ultimi elettroni del mio dito andranno vicini all'elettroni di questo qua. Essendo cariche lo stesso segno si respingono e io col dito riesco ad entrare nell'oggetto. No? E la forza è molto grande. Quando io tiro e non si separano gli atomi. Perché? Gli atomi sono legati tra di loro, con delle forze. E queste forze sono elettromagnetiche. 10 alla 36 volte è più grande di quella gravitazionale. Quindi nella materia solida esistono forze enormi, che noi non percepiamo facilmente, che sono sostanzialmente di natura elettromagnetica. Questo è un aspetto importante per capire come è fatta la materia. Quindi queste onde elettromagnetiche, questo campo elettromagnetico gioca un ruolo molto importante. E nel campo elettromagnetico noi abbiamo esperienze in tanti aspetti, no? E' talmente onnipresente che abbiamo dato nomi diversi, a seconda delle facce con cui si presentano noi. E' sempre la stessa cosa, ma non lo chiamiamo in modo differente. Sia per come lo utilizziamo in termini tecnologici, sia per gli effetti fisici di questo oggetto sulla materia e anche su di noi. E quindi questo di per sé ha tutta una sua complessità. Torniamo alla materia. Come vi dicevo, quindi anche la meccanica, se vuole direzione, le forze che mantengono insieme gli oggetti, che danno solidità agli oggetti, ci sono le creature elettromagnetiche. Ma c'è anche un altro aspetto. Non esiste niente di veramente solido. Quando io tocco qualcosa non sto toccando veramente niente. Perché in realtà c'è sempre il vuoto tra gli elettroni del mio dito e gli elettroni del tavolo. Non ci sta nessun contatto di materia. Il nostro concetto microscopico di contatto di materia semplicemente non esiste. E' sbagliato. E' una cosa che su scala reale microscopica non esiste. La materia è sostanzialmente vuota. Ci sono i campi, ovviamente, quelli che determinano le forze, però come sostanza di materia che ha massa è sostanzialmente vuoto. E questo è un altro aspetto intrigante. Perché ci sta allora questa repulsione? Perché gli oggetti si mantengono insieme? Perché esistono, se mettiamo due atomi, tipo due atomi di idrogeno, che si attaccano insieme a formare una molecola di idrogeno, che faranno? Loro hanno una forza che tende ad attirarli. E questa forza è una forza di tipo attrattivo. Che tipicamente, se rappresentiamo il potenziale, la forza è una forza che, all'aumentata della distanza, tende a diminuire. E tende ad essere più forte mano a mano che sono più vicini. Prendiamo, che so, due ioni, sodio e cloro, nel sale della cucina, loro si attireranno. Però perché a un certo punto non manacchino l'uno dentro l'altro? A un certo punto compare una forza repulsiva. La forza repulsiva è quella stessa di prima. Sono gli elettroni, poi, delle ascelle esterne, degli atomi che si respingono. Queste due forze combinate da un luogo a una forza che ha un minimo e che ha uno zero che corrisponde in termini di potenziale a un minimo di potenziale. Quindi la forza potenziale che cerca di mantiene insieme gli oggetti è un potenziale asimmetrico fatto così. Ovvero, tendi ad avvicinarli andando da lontano, ci sta un punto in cui il potenziale è minimo, in cui la forza è zero, dov'è che la forza cambia segno e tende a respingerli. Questo è importante, già ci permette di capire una proprietà della materia, perché immaginiamo di avere questi due atomi che sono attaccati assieme, sono tranquilli, infatti, belli fermi. Quale è la loro distanza? Sarà quella del minimo del potenziale. Si mettono in condizione di minimizzare l'energia. Quindi saranno a questa distanza qua. Ora, supponiamo di agitarli questi atomi. Come li possiamo agitare? Riscaldando, no? La temperatura è un'altra che agitazione molecolare. Quindi il nostro solido, fatto di atomi che stanno agitando di loro, lo riscaldiamo. Gli atomi cominciano ad agitarsi. Questi atomi cominceranno a muoversi lungo, si agiteranno qua attorno. No? Se avranno acquistato un po' di energia, staranno oscillando in questo modo qua. Ma questo potenziale è asimmetrico. L'oscillazione non ha il centro a metà, non ha la media al centro, ma la media è spostata verso destra. Vuol dire che la distanza media tra gli atomi si è aumentata. Che abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che i colpi riscaldati si dilatano. Questo è il concetto di radiazione termica. Spiegate in termini del potenziale che collega gli atomi. No, sappiamo, se abbiamo un pezzo di sfodello, lo riscaldiamo e si allunga. Perché? Si agitano gli atomi e mediamente stanno un po' più lontani, perché il loro potenziale è asimmetrico. Se fosse una parabola bella asimmetrica, resterebbero sempre la stessa distanza, perché i media sarebbero al centro. Quindi già si comincia a capire qualche proprietà. Vediamo un poco in che forma possiamo mettere insieme gli atomi per fare i corpi solidi. Tipicamente lo possiamo descrivere in tre modalità. Possiamo metterli in modo più o meno casuale messi insieme, creando quello che si chiama un solido amorfo. Possiamo metterli insieme in modo molto regolare, in cui le distanze sono ben ripetute, creiamo quello che noi chiamiamo un solido cristallino. Oppure possiamo mettere le stazioni intermedie in cui abbiamo zone regolari che sono attaccati uno all'altro, ma non abbiamo una regolità che comprende tutto il corpo. Abbiamo quello che si chiama un policristallo. Qua bisogna fare attenzione con la terminologia. In fisica chiamiamo un cristallo esattamente un oggetto che ha questa struttura regolare di atomi. In senso comune chiamiamo un cristallo o una lastra di vetro. La lastra di vetro è tutta tranne che un cristallo perché la lastra di vetro è amorfo. E non è neanche un solido in termini tecnici perché è un liquido molto viscoso. Però in ogni caso è amorfo. Quindi anche qua cominciamo ad avere un problema sulla terminologia. Insomma, siamo stati attenti al contesto in cui parliamo. Che cosa quindi? Vediamo un po' di esempi. I cristalli singoli abbiamo un ordine a lungo range. Come si dice, c'è una ripetizione periodica della cosa. Un esempio per esempio è la grafite. è un oggetto bidimensionale che mantiene... Queste sono immagini al microscopio a forza atomica dei singoli atomi di carbonio che confondono la grafite. Vedete che c'è un ordine regolare che si mantiene a lunga distanza. Un sistema policristallino possiamo avere un diamante. Un diamante non di quelli ultrapuri. Tipicamente è fatto in più cristalli orientati in regioni diversamente l'uno dall'altro che poi diffonde la luce all'interno e dà gli effetti. Il punto di vista atomico è fatto così. Possiamo avere degli oggetti strani che si chiamano quasi cristalli che sono oggetti che hanno un ordine a lungo range ma non hanno una periodicità esatta di spostamento. Sono oggetti più moderni scoperti più recentemente fatti anche in modo artificiale e questi qua ovviamente hanno proprietà interessanti. Questa è una sostanza naturale e l'alluminio, nickel, cobalto che non è un cristallo vedete che non c'è una regolarità vera e propria però mantiene un ordine a lunga distanza e hanno proprietà particolari. E poi materiali amorfi un esempio per esempio una cellula solare a silicio di quelle flessibili è fatta con silicio amorfo. Lo stesso silicio lo posso avere anche in forma cristallina cioè il stesso materiale lo posso realizzare in varie modalità. Per esempio, torniamo sempre usando il silicio che cosa ne facciamo? Se la cellula è in forma amorfa posso fare delle cellule solari ma posso fare anche gli schermi dei computer. Il transistor che sta in ogni pixel dello schermo del computer ha un transistor che lo accende e lo spegne. Questo transistor è fatto con silicio amorfo è fatto così a livello microscopico e quindi è fatto con un silicio irregolare. È un silicio diciamo che costa poco che si può fare su supporti flessibili perché non deve mantenere una struttura fissa e quindi ha dei vantaggi ovviamente anche degli svantaggi tant'è che tutta l'elettronica invece è fatta con silicio ben diverso. Silicio policristallino. Questo è uno strato policristallino di silicio. Quello che vedete è una fettina trasversale di un dispositivo a semiconduttore. La scala è molto amplificata e questi sono 200 nanometri. 200 nanometri sono 2 per 10 a meno 7 metri. Un capello è spesso 50 micron. Quindi è spesso 250 volte questo trattino giusto per capire la scala su cui stiamo. Questo è il strato di silicio che forma un componente il gate di un mosfet. In questo caso vedete varie strutture vari pezzi di cristalli che lo compongono perché è un policristallo. Dal punto di vista dei sistemi cristallini è un sistema regolare ho fatto esempio come è diverso la carta parati cioè un oggetto in cui abbiamo una ripetizione esattamente regolare geometrica che ha dello stesso disegno. Nel caso dei solidi degli atomi messi in modo regolare. Vediamo come si può descrivere a questo punto perché si fa questa cosa? Ovviamente per descrivere la materia devo cercare da partita semplice cercare di utilizzare gli strumenti che abbiamo. E' più facile cercare di descrivere un oggetto regolare perché capendo l'oggetto di base se si ripete sempre uguale riesco a capire cose. Se è un oggetto che cambia continuamente è molto più complicato descriverlo per cui cerchiamo di descrivere la materia in una forma regolare in una forma cristallina. Se abbiamo supponiamo un caso di un piano bidimensionale e questi sono atomi messi in questo modo regolare questo formano un cristallo regolare come lo descriviamo questo cristallo? Questo cristallo è la ripetizione continua di una cellula elementare immaginate questo rombo che si ripete affiancato l'uno all'altro e forma la struttura infinita diciamo come la posso rappresentarla? Si rappresenta con due vettori un vettore spostamento che mi fa andare da un atomo a quello a fianco ne piglio due perché sono nel piano mi servono due vettori non paralleli e con qualunque combinazione di questi vettori questi insieme posso raggiungere qualunque atomo del piano questi sono i vettori di base della cellula unitaria che si usano per descrivere matematicamente questo sistema e se io so come sono fatti i vettori posso costruirmi l'intero cristallo perché li applico ripetutamente e ottengo le posizioni tutti gli atomi naturalmente li posso succedere così ma anche così basta che sono due non paralleli posso costruire dove posso identificare qualunque punto del piano naturalmente se sono nello spazio me ne servono tre perché devo muovermi in tre dimensioni e posso avere strutture abbastanza più complesse qui ce ne abbiamo qualche esempio quelle più comuni sono quelle cubiche in varie forme quella cubica semplice quella body centered e face centered che significa? struttura cubica semplice è quella di un cubo in cui ogni vertice abbiamo un atomo è quella che uno si immagina più facile in realtà questa in natura si trova molto poco poi ci abbiamo la body centered è un cubo con un atomo al centro poi ci abbiamo la face centered in cui ci abbiamo un cubo sempre con un atomo al centro di ogni faccia quindi abbiamo i otto vertici più abbiamo le quattro facce di due più gli altri sei che stanno qua abbiamo 14 atomi queste sono strutture abbastanza comuni che troviamo in natura per esempio la face centered la troviamo l'alluminio il ram il nickel palladio l'argento platino l'oro piombo molti metalli hanno questo tipo di struttura qua alcuni sali il clorodicesio per esempio è una BCC cioè una body centered è un cubo al centro del cubo ci sta l'altro tipo di atomo che poi si ripetono a fianco anche l'atomium che sta a Bruxelles è un face centered quindi anche quello ha questo aspetto qua ci sono strutture più complesse per esempio il diamante il diamante forma un tetraedro l'atomo di carbonio ha quattro legami e forma questa struttura particolare in cui è come se fossero due BCC uno dentro l'altro incastrati questa struttura avendo molti atomi molto vicini ha una densità molto alta questa è una densità intermedia quella non ho fatto esempio di questa qua è una densità molto più bassa questa qua un altro esempio giusto per andare su quello che poi ci dà la natura questo qua è un materiale che è stato scoperto nel 1986 è un superconduttore ceramico come si dice ha una struttura di peroschite nel linguaggio del delle strutture cristalline è una struttura ortorombica ha questa struttura qua ogni colore è un atomo diverso questa è la sua composizione ittrio bario 2 rame 3 ossigeno 7 questo è un superconduttore c'è una proprietà di avere una resistenza nulla sotto 92 kelvin vedete che la struttura cristallina è complicata molto più complicata che quella che abbiamo visto prima vedete che questi non stanno neanche lo stesso piano questo è inclinato quindi non ci sono tutti bei piani però ci sono anche delle deformazioni dovute al fatto che atomi diversi si attirano in modo differente e quindi si deforma quindi la natura è molto più cattiva e complicata di quello che però cerchiamo di descrivere un po' alla volta un altro aspetto che dobbiamo considerare è che cosa mantiene insieme questi atomi ci sono ovviamente i legami i legami chimici che sono quelli che questi legami hanno forza differente a seconda della forza c'è un nome diverso i legami molto forti sono i legami tipo covalente poi abbiamo i legami tipo ionico poi i legami tipo metallico e poi i legami tipo van der Waals che sono queste cose qua poi derivano dalla chimica no? il legame covalente è un legame in cui nel caso dell'idrogeno si mette in comunione un elettrone ognuno con l'altro l'idrogeno c'è un solo elettrone sullo stato uno S1 il suo orbitale però ne potrebbe portare due e sarebbe completo con due elettroni e quindi che fa? prende un elettrone dall'altro atomo di idrogeno così lui c'ha un orbitale completo anche questo ce l'ha completo ce l'hanno in co-sharing diciamo i due elettroni tutte e due sono contenti e questo li mantiene molto fortemente legati insieme il legame covalente è un legame molto forte questo tipo di legame ce l'abbiamo nel silicio che si lega con quattro atomi di silicio attorno e forma un legame molto forte tipo covalente il legame ionico invece quando si ha quando abbiamo due due elementi in cui uno cede un elettrone lo acquista l'altro il caso classico del sale della cucina il cloro di sodio il sodio perde un elettrone e lo acquista il cloro il sodio aveva un solo elettrone sull'ascella esterna quindi si sente lo shell più sotto completo se nel cloro ne mancava un elettrone per completare quindi si completa l'ottetto tutte e due stanno bene però che è successo? abbiamo spostato una carica da parte all'altra il bilanciamento perfetto che avevano prima non c'è più quindi ci sta un campo elettrico una forza che li attira e li attacca assieme e questo è il legame tipo ionico questi stanno insieme e formano il sale della cucina che è un bel esempio di cristallo il legame metallico è più particolare ci torneremo sui metalli perché lo vedremo nel dettaglio che abbiamo? abbiamo sempre elementi che hanno un elettrone che avanza insomma che ci hanno da solo sullo shell più esterno però mettendosi insieme invece di cederlo e fare due ioni lo mettono in qualche modo in condivisione con gli atomi che ci stanno attorno per cui quest'atomo qua e questo elettrone un po' quello da questo un po' questo e lui come vedete si prende un po' l'elettrone in un'altra parte questo fa sì che l'elettrone sta in sharing non con un altro solo come nel caso dell'ione ma con più altri è più libero di muoversi e sono i famosi elettroni poi che saranno quelli che daranno luogo al movimento della corrente elettrica nei solidi gli elettroni di conduzione questo fa sì che però di nuovo come nel caso ionico gli atomi danno una forza che li mantiene insieme il fatto di aver messo in comune questi elettroni e questo è un legame tipo metallico più debole dei precedenti però comunque esistente e poi abbiamo quello più debole di tutto quello di Van der Waals Van der Waals lo abbiamo quando abbiamo molecole o atomi in cui la carica elettrica non è bilanciata quindi il barricione delle cariche positive non corrisponde al barricione delle cariche negative ad esempio tipico l'acqua l'acqua ha due idrogeni spostati rispetto all'ossigeno se andiamo a fare i conti dove stanno i idrogeni positivi e quelle negative sono in regione spostate si crea quello che si chiama dipolo elettrico e quindi qua c'è un piccolo campo elettrico un piccolo campo elettrico sta qua questi campi reagiscono si attirano e si attaccano tra di loro formano quelle che si chiamano i ponti idrogeno e l'acqua si nello stato solido quindi come ghiaccio si mette insieme e forma un bel sodio cristallino con simmetria esagonale questo sarebbe i famosi fiocchi di neve credo che Kant ha scritto una cosa sul fatto che i fiocchi di neve erano una forma esagonale stessa cosa succede per esempio nei gas nobili i gas inerti i quali raffreddati abbastanza possono solidificare però perché non formano legame chimiche hanno le scelle pina ma hanno questa piccola asimmetria nel bilanciamento delle cariche c'è comunque una piccola forza che devono dire insieme e formano questi solidi di Van der Waals così molto scadenti tant'è che se facciamo un grafico dei tipi di legame e delle varie materiali che ce l'hanno e mettiamo qua la temperatura di fusione ovvero quanta energia termica dobbiamo darle per rompere il solido vediamo che per quelli con legame molecolare basta pochissima temperatura per rompere il solido l'acqua a 300 kelvin scusate a 400 no a 300 questo è il ghiaccio fonde e quindi si staccano i legami gli altri gas nobili ancora più sotto se andiamo nei metalli dobbiamo andare a temperatura intorno a 1000 gradi kelvin se andiamo su quelli che hanno legame covalente tipo il diamante il silicio germano dobbiamo dare temperature molto più alte per fonderli perché dobbiamo rompere un legame molto più forte questo è i legami che mantengono insieme gli oggetti detto questo c'è una piccola parentesi dicevamo il silicio fa quattro legami no? ma il silicio se andiamo a vedere come è fatto gli orbitali atomici c'ha un S2 pieno e poi c'ha un 2P Px e Py contro l'elettrone quindi da dove escono fuori questi quattro legami? perché c'ha due S pieni e poi c'ha due liberi quello che succede nel silicio come pure nel carbonio quello che si chiama ibridizzazione cioè uno degli elettroni dell'S salta sul P vuoto e si fanno quattro legami uguali che si chiama S e P3 tutte quattro uguali che si mettono nelle quattro direzioni dal punto di vista spaziale il disegno giusto è questo equivalenti e si collega con altri atomi quindi succede questa cosa ancora più particolare va bene finora abbiamo visto il sistema ideale no? in natura niente è perfettamente ideale quello che succede è che noi troviamo impurezze nei cristalli e questa impurezza può sapere vari aspetti per esempio può succedere che un atomo manca si chiama vacanza no? un atomo manca da un punto reticolare oppure non c'è l'atomo ci sta ci sono un atomo di un'altra specie si chiama sostituzione difetto punto di forma per sostituzione oppure abbiamo un atomo in più che non sta dove dovrebbe stare ma si trova in mezzo rispetto al reticolo cristallino e questo ovviamente deforma sposto un poco gli atomi attorno e deforma la regolità del reticolo attorno oppure possiamo avere un difetto di linea questo che cos'è? questo cristallo si era fatto così improvvisamente compare un altro piano qua come escono fuori queste cose? dovete immaginare che i cristalli si formano non è che sono nati si formano da che cosa? dal degli elementi nello stato liquido o gassoso che vengono raffreddati e condensano mano a mano i condensi si vanno a mettere nei posti dove non andare se questo processo non avviene alla velocità giusta ad esempio ne arrivano un po' troppi questi in questo momento si sono affollati e si sono organizzati leggermente diversamente e a questo punto si è creata una discontinuità tra qua e qua mentre crescevano con questa velocità è andato così oppure nel piano cominciano a crescere in un zona in un modo l'uno dell'altra si allarga e poi vanno a confine e non si trovano orientati e si creano queste strutture planari oppure a tre dimensioni si può creare un tipo di aggregato di materiale che cresce e cresce all'interno di un altro tipo di materiale un'inclusione queste per esempio sono le cose che danno colore alle preti preziose il diamante tipicamente puro dovrebbe essere presente trasparente quando è colorato ci sono delle inclusioni di altri materiali che interaggendo con la luce danno il colore quindi questi sono i tipi di difetti che possono esserci nella materia e questi difetti ci stanno quindi quando studiamo la proprietà della materia dobbiamo tenere presente che noi avremo a che fare un coso di questo tipo anche se capita una volta su un milione perché noi abbiamo qualunque pezzo di materia usiamo a tanti di quegli atomi che il numero di difetti sarà comunque enorme e quindi dobbiamo capire pure che succede e vedremo che la bravura degli scienziati del 1900 è stata proprio quella di sfruttare questa cosa e utilizzare difetti in modo positivo per capire perché quindi a volte ci vuole delle cose molto pure e lo vediamo qua questo è un wafer di silicio quello che si usa per lì dobbiamo avere un sistema senza difetti perché i nostri modelli con cui abbiamo pensato di fare i dispositivi la nostra teoria prevede un cristallo perfetto se il cristallo non è perfetto le teorie non funzionano più allora per fare un cristallo più perfetto possibile bisogna realizzarlo se io faccio io la materia normale la difettosità sta nell'ordine del percento che significa 10 o 22 atomi ci dice la 20 difetti che è un numero enorme per ridurlo bisogna fare delle cose particolari nel caso del silicio si passa dal biossi di silicio dalla sabbia si fa una reazione chimica per cui si isola il silicio metallico si continua in reazione col triclorosilano che è un gas estremamente velenoso è un gas nervino che in cui il silicio evapora diventa gas poi si fa condensare si separa alla fine si ottiene il silicio puro con questo livello di precisione di purezza che è un livello che è quasi la cosa più pura che si riesce a fare al mondo con questo si fanno delle sbarre che si affettano la fettina e il buifero su cui si fanno i circuiti quindi vedete che sviluppo tecnologico ci è voluto per arrivare a fare oggetti di purezza elevata sui quali la teoria che noi sappiamo fa solo teorie semplici la teoria più semplici di una cosa regolare possiamo applicare la teoria e quindi avere una cosa che funziona questo è un esempio di applicazioni in una cellula solare fatta il silicio vedete la differente colorazione questa qua è dovuta al fatto che la cellula è policristallina quindi questo particolare si usa da qua è policristallina quindi i cristalli sono unitati in modo diverso e quando arriva la luce sopra riflettono in modo differente quindi vediamo la colorazione se fosse un monocristallo come ci sono quelle rotonde i celi solari monocristallini vediamo un colore uniforme vabbè allora adesso come vi dicevo prima ci vogliamo concentrare su un aspetto importante delle proprietà della materia questo è la condizione di corrente naturalmente dobbiamo cercare di definire che cosa è questa corrente ovvero la corrente è una cosa che è nota dal 1700 1800 però era nota in modo empirico e senza avere una teoria fondamentale noi vogliamo definire la corrente parte da una teoria fondamentale così poi dobbiamo definire da una teoria fondamentale chi sono gli isolanti dei conduttori e non in modo empirico e poi viene fuori che in questa cosa esce una classe strana di materiali che si chiamano semiconduttori che hanno proprietà particolari e come mai poi ci dobbiamo poi ci concentriamo proprio sui semiconduttori visto che abbiamo una grande classe di altri materiali ci andiamo a vedere proprio quelli allora cominciamo un po' a parlare del discorso della corrente e cerchiamo di costruire un modello microscopico del passaggio di corrente allora questo è un filo questa è una sezione di filo qua ci sono un certo numero di cariche che si spostano e quindi sono gli elettroni nel 1901 se non mi ricordo male hanno dimostrato che l'elettrone è quello che trasporta corrente nei materiali metalli quindi abbiamo gli elettroni che camminano quelli che passano in unità di tempo sarà dato dal numero di elettroni per la velocità in cui vanno per la sezione del segmento per il tempo in unità di tempo perché gli elettroni sono carichi negativamente la corrente è data dal numero che passa per la carica che è meno E e questa è la corrente la densità di corrente la ottengo dividendo per l'aria vabbè giusto la cosa dopodiché la velocità chi è? c'è una relazione che mi collega la velocità al campo elettrico applicato no? se io metto un campo elettrico i carichi si spostano non metto un campo elettrico i carichi non si spostano quindi ci vuole un campo elettrico per si spostare la carica sono proporzionali se li sostituisco qua dentro che viene fuori viene fuori che è già il proporzionale A che è una legge ben nota la legge di Ohm scritta per la densità invece che per la corrente e le tensioni ma è la stessa cosa con questo punto di proporzionalità questa cosa sembra ragione di quello e questa è una legge ben nota ma c'è un piccolo problema il piccolo problema è che se io considero che gli elettroni si spostano liberamente da questo metallo e ci ho messo un campo elettrico se c'è un campo su una carica libera che fa la carica? accelera non va a velocità costante va a velocità variabile e perché io ho messo che il campo è proporzionale alla velocità? e allora c'è un problema in questa descrizione l'elettrone non è libero cioè non posso pensare che la carica qua è come fosse una particolare libera che fa quello che vuole perché se fosse così dovrebbe accelerare qua invece la legge empirica mi dice che va a una velocità media allora che sta succedendo? succede che l'elettrone dentro il metallo non è libero ma è quasi libero questo quasi libero che significa? lui si può muovere ma come vedremo dopo in maggiore dettaglio l'elettrone si può muovere se il mio cristallo è bello fermo e tranquillo ed è perfetto in questo caso si muove tranquillamente ma se il mio cristallo comincia ad avere problemi che ha dei buchi o delle impurezze oppure si muovono gli onimi mentre l'elettrone cammina è come cercare di camminare su un ponte che sta oscillando l'elettrone ha difficoltà quello che succede è che ogni tanto sbatte da qualche parte per cui quello che succede di questo moto è più che altro un moto fatto così la velocità tende a crescere linearmente giustamente accelerato a un certo punto urta urta e acquista una velocità casuale quindi perde quella direzione verso il campo elettrico e poi ricomincia a accelerare verso il campo elettrico poi riurta così e questo tempo tau che stava qua non è altro che il tempo medio tra un urto e l'altro è il tempo in cui si resetta è la velocità dell'atomo dell'elettrone questo fa sì che se facciamo due conti viene fuori che a questo punto la velocità c'è la velocità media di questo segnale proporzionale al campo applicato e mi dà luogo a quella che è la legge macroscopica la legge di Ohm quindi vediamo come io per spiegare la legge macroscopica devo invocare un meccanismo microscopico che è di urto di questo elettrone mentre si muove il metallo e che mi definisce alcune grandezze importanti il fattore di porzionalità tra velocità e campo elettrico si chiama mobilità quanto quanto è il libro di morso di elettrone si chiama mu come pure la relazione tra già e è si chiama conducibilità dice quanto facilmente si sposta l'elettrone quando apriamo un campo esterno quindi cominciamo a vedere che nel metallo le cose sono abbastanza semplici ma non troppo cioè l'elettrone è come se fosse libero ma non completamente libero questo fa capire una cosa immaginate avere un meccanismo di questo tipo che succede se io cambio la temperatura del metallo? aumenta la velocità no la temperatura non il campo elettrico il campo elettrico è sempre lo stesso quindi aumenta l'oscillazione quindi questo elettrone subirà più spesso gli urti quindi tau tenderà a diminuire se tau tende a diminuire la conducibilità tende a diminuire cioè la resistenza tende a aumentare se facciamo un grafico di resistenza di un metallo in una temperatura vediamo che cresce più o meno linearmente che è la curva rossa questa temperatura che aumenta e questa resistità del metallo inverso la conducibilità ci aspettiamo però che se raffreddiamo si agita di meno la resistenza deve scendere al limite se andiamo a temperatura zero dovrebbe diventare zero pure la resistenza nella pratica non succede vediamo che invece va un valore che si chiama resistenza di saturazione chi è questo? a che è dovuto? è dovuto dal fatto che noi abbiamo detto ci sono due meccanismi di urto uno è l'agitazione l'altro le impurezze anche quando le agitazioni finiscono le impurezze ci stanno sempre e quindi comunque urterà un po' questi elettroni comunque quindi sarà rallentato periodicamente e quindi questo mi dà una resistenza finita e quindi questo diciamo già questo meccanismo semplice che è il modello di Drude ci fa capire già alcune proprietà della materia la cosa strana è che se vediamo questi famigerati semiconduttori e vediamo in temperatura che fanno la loro resistenza fa così quindi abbiamo degli oggetti che portano corrente quindi ci sono elettroni che si spostano però se variamo la temperatura invece di salire la resistenza scende ma scende pure drasticamente e questo quindi fa capire che questi semiconduttori sono un po' strani come materiali noi riusciamo a descrivere in termini semplici tant'è che è interessante vedere da dove vengono fuori questi semiconduttori storicamente un po' come è stato lo studio la parola semiconduttori l'ha introdotta Alessandro Volta quindi è una diciamo definizione invenzione italiana già nel 1782 quindi già in tempi non sospetti e ovviamente già la condicibilità fuori strana la noto già Faraday alcune proprietà alcuni oggetti come i semiconduttori fuori cominciare a fare già a fine 1700 ma senza ovviamente capire bene cosa cosa c'era una parte di conoscenza ecco vicino nel 1901 si scopre la corrente elettrometale dovuta agli elettroni e quindi alle particolari elementari e la dipendenza che si sa dalla temperatura fu di nuovo diciamo ipotizzata ma non spiegata già nel 1903 poi c'è un salto di 30 anni in questi 30 anni che succede? in questi 30 anni c'è la meccanica quantistica in questi 30 anni si sviluppa tutto quel corpo di conoscenza che fa capire come funzionano le particolari elementari e infatti nel 1931 Wilson fa una teoria a bande dei solidi con il concetto impurezza di onore e accettore e spiega come funzionano i semiconduttori il concetto di lacuna e così via lo introduce Heisenberg era un periodo ancora di sviluppo che Paoli che non era l'ultimo arrivato disse uno non deve lavorare sui semiconduttori sono un pasticcio chissà se ha detto che esistono i semiconduttori no? perché considerate che all'epoca uno non poteva essere certo della purezza degli oggetti che studiava per cui poteva dire sì questo è strano perché chissà che schifezza di impurezza ci sta dentro tu stai misurando una cosa ma in realtà non è materiale è la sostanza ma è un difetto dell'oggetto che stai misurando quindi era un periodo così ciò nonostante però pochi anni dopo la Bell Telephone Laboratory si avvia in un progetto di studio per applicazione di questi semiconduttori per quelli voi che non lo sanno la Bell Telephone Laboratory era un laboratorio privato della compagnia telefono americana che era all'epoca l'unica compagnia che gestiva tutti i telefoni stati uniti quindi un laboratorio di ricerca privato come dire il laboratorio della telecom per non fare diciamo paragoni inappropriati però i laboratori della Bell Telephone hanno prodotto svariati premi Nobel cioè loro pigliavano i migliori scienziati li mettevano nel laboratorio e li riempivano i soldi per fare la ricerca più avanzata possibile sono liberi di fare le cose che pensavano di fare e hanno avuto dei risultati strabilianti questa cosa è andata avanti per un bel po' di anni fino a che l'antitrust americano ha deciso che non poter esistere una nuova compagnia che gestiva tutti i telefoni stati uniti ma deve essere frammentata in tante piccole compagnie una volta frammentate le compagnie più piccole non possono più gestire così e quindi questo momento magico dei Bell Labs è finito anni 70-80 più o meno e la gente si è spostata in altri laboratori subito dopo la guerra nel 40-45 c'è prima una pausa di riflessione perché c'era una piccola guerra da combattere quindi la gente non poteva fare tanta ricerca fondamentale subito dopo quella si riprende e nei Bell Labs inventano il transistor nel 47 prima nobile per questa invenzione il transistor che ha inventato ora è questo questo è il primo transistor fatto uno moderno è fatto più o meno così da un oggetto con tre fili dopodiché è stato tutto un crescendo è stata fatta la prima radio a transistor sono stati i primi oggetti commerciali vedi in pochi anni la Texas Instruments fa la prima radio a transistor la Texas Instruments è una compagnia che è stata fondata da una persona che lavorava con questi qua i Bell Labs e poi si è tornato in Texas che era la sua nazione di origine e ha fondato una piccola compagnia per fare transistor che è nata la Texas Instruments in Giappone un'altra ha comprato i diritti di brevetto e ha fatto una piccola compagnia che si chiama Sony Corporation così sono nate questi grandi multinazionali utilizzando la conoscenza messa a disposizione da questa invenzione poi è venuta la Intel al stesso modo anche loro lavorano in Bell Labs e così via tutto questo diciamo per dire poi che è successo da allora in poi tutto lo sviluppo elettronico che noi conosciamo noi siamo circondati di applicazioni dei semiconduttori e basta pensare che se li volessimo cancellare la nostra vita torneremmo coloriati a valvola di V in bianco e nero è come cosa più avanzata possibile insomma vabbè torniamo alla nostra la parte fisica vediamo un attimino allora di concentrarci su capire che sta succedendo cosa permette il passaggio di corrente nella materia ripartiamo dagli atomi ripartiamo dal fatto che gli atomi per i fatti loro gli elettroni sono legati all'atomo non ha nessuna voglia di andarsene in giro che succede quando costruiamo un solito mettiamo gli atomi vicino all'altro però ragioniamo un attimo se pigliamo due atomi uguali due atomi di rame no? l'elettrone più esterno dell'atomo di rame uno sarà in un certo stato che è quello dell'elettrone più esterno quello più esterno dell'altro atomo sarà nello stesso stato quantistico quando li mettiamo insieme abbiamo due particelle quantistiche che sono nello stesso stato che cercano di stare nello stesso posto questo lo vieta il principio di scusione di Paoli che impedisce che due particelle possano avere i numeri quantici che stanno allo stesso posto non possiamo averle questo quello che succede nella pratica è che questi due elettroni che hanno lo stesso di energia che andrebbero a coincidere si spostano uno sale un po' più sotto l'energia l'altro un po' più sotto il sistema si splitta come si dice l'energia in modo da il principio di Paoli che è un principio fondamentale nel quale quantistica resta soddisfatto questo principio vale per gli elettroni e per tutte le particelle che si chiamano fermioni non per tutti in assoluto per esempio altre particelle tipo i fotoni possono stare utilizzando il stesso stato e infatti si dice che hanno una statistica che non è dei fermioni ma dei bosoni statistica di Bose allora che succede? se lo succede per due per tre atomi avremo uno split di livelli a tre per quattro atomi a quattro se ci sono 10 alle 22 atomi quando ce ne stanno in un cristallo ci sono 10 alle 22 livelli di energia ma 10 alle 22 dell'energia è praticamente un continuo non li distinguo quindi c'è quello che si chiama una banda di energia ovvero questi elettroni esterni non sono più prefissati in energia ma possono stare in una banda di energia e usando questa banda di energia si possono muovere sostanzialmente quattorno se sospindi a farlo ovviamente quindi se facciamo un grafico di energia avremo uno degli intervalli che si andasse a ingrandire sempre da tanti livelli ma sono talmente ravvicinati che è un continuo quello che succede è che se facciamo questo calcolo e questo calcolo si fa ovviamente però è un modo abbastanza complicato e qua il formalismo lo evitiamo viene fuori che abbiamo un'alternanza di bandi di energia e di zone in cui l'energia non ci può stare l'elettrone non può avere quella energia sono zone proibite poi c'è un'altra zona possibile e così via a che è dovuta questa cosa? questo lo possiamo capire da questo esempio facciamo un esempio consigliamo che l'elettrone è libero un elettrone libero è una particella che se ci mette una forza è accelerata e acquisisse una sua energia l'energia cinetica l'energia dell'elettrone in movimento è un mezzo mv4 se scriviamo in termini del momento sarà P4 su 2m le particelle quantistiche in momento è proporzionale al numero d'onda k per cui è proporzionale al k4 e quindi il grafico è di k sarà una bella parabola e questo è il rapporto energia numero d'onda di una particella quantistica la bella parabola a qualunque ci sia questa energia c'è questo k o quest'altro k e così via che corrisponde a quello classico di una particella libera quando le mettiamo insieme nel sistema e interagisce che succede questo splitting dei livelli succede che questa qua si deforma l'elettrone continua ad essere sostanzialmente libero ma si taglia qua questo si deforma qua e qua si fa un buco cioè qua non abbiamo la curva per cui l'elettrone può stare qua può stare qua può stare qua ma non può stare qua dentro qui c'è una zona di energia impossibile l'elettrone può vivere qua tranquillamente può vivere qua sopra può avere questa energia e questo k ma non può avere questa energia qua questo viene fuori da questo teorema di Bloch che mi ricordo per dimostrarlo c'erano 4 pagine di conti una delle cose che portano all'esame su tutta la materia una delle parti pesanti diciamo del corso ok quello che succede se andiamo a fare la cosa in un caso reale abbiamo questo è silicio questo è il stesso grafico però vero per il silicio questo è k e questo è energia nel bianco abbiamo le zone permesse nel grigio le zone energia vietata il silicio guardate che è pure particolare perché il punto massimo di energia che può avere l'elettrone sta qua il punto minimo della banda dopo non sta di fronte sta qua e quindi se l'elettrone volesse saltare da qua a dopo ovviamente cercherebbe di saltare sul minimo per fare il minimo salto di energia ma per saltare da qua a qua ha bisogno di cambiare il k deve cambiare il suo momento ma poiché la legge di condizione della quantità di moto è una legge universale questo momento in più che ti acquistare qualcuno glielo deve dare e chi glielo dà glielo dà il reticolo cristallino per cui l'elettrone può saltare solo se il reticolo cristallino gli dà un poco di botta di momento altrimenti non può fare anche se ha l'energia per saltare da qua a qua se non gli dà questo momento non passa questa cosa che sembra una cosa molto astrusa in matematica spiega un fatto molto pratico perché non posso fare i led di costilicio ma li posso fare a qualsiasi di gallio perché quando l'elettrone salta da qua a qua o da sopra a sotto immagino un elettrone che sta qua c'è uno spazio libero qua se ne salta giù non può saltare qua deve saltare per forza qua deve scambiare questo k con il reticolo questa energia che lui recupera scendendo giù la deve dare al reticolo cristallino l'energia data al reticolo cristallino è agitazione diventa calore quindi l'elettrone che scende giù la sua energia che lascia la lascia come calore nell'elettrone di gallio il massimo e il minimo stanno uno di fronte all'altro quindi lui scende in verticale non deve scambiare energia col reticolo l'energia che lui lascia dove se ne va? se ne va con un'elettromagnetica cioè luce e quindi emette luce quindi nel caso del reticolo di gallio l'elettrone che scende per la più vasta emette luce come in un atomo che si ricombina nel silicio no e quindi per fare i led hanno dovuto farli con l'arsenio di gallio torniamo ai nostri bandi di energia e lo capiamo a questo punto possiamo capire che il differenza sarà conduttore isolante perché immaginiamo il nostro solito cristallino immaginiamo di svuotarlo tutti gli elettroni abbiamo solo gli atomi poi ce li mettiamo uno alla volta dove vanno a finire gli elettroni? mettiamo il primo elettrone se ne va nel livello più basso disponibile di energia mettiamo il secondo se il primo occupato si mette un po' più sopra e così via quindi mano a mano che li mettiamo queste bande si riempiono alla fine metterò l'ultimo elettrone che devo mettere per rendere l'intero sistema neutro quale situazione mi trovo? posso fare due possibili solo situazioni o ho una banda semi piena per cui il guidetto si arriva di qua e ci sta ancora spazio sopra oppure riempito completamente una banda e sopra ci sta un gruppo di energia a questo punto ci chiediamo abbiamo due tipi di materiali praticamente in questo materiale qua se applico un campo elettrico al materiale gli elettroni si possono spostare? questi elettroni qua no ma lo vanno per potersi spostare un elettrone deve cambiare lo stato di quieto e quello di moto la sua energia deve salire deve avere uno spazio di energia più sopra l'elettrone che qua tutto pieno sono stati affollati non si può proprio muovere pure questi non si possono muovere gli unici che si possono muovere sono questi qua che stanno sulla superficie questi sopra hanno spazi libri di energia quindi possono acquistare poi energia e muoversi questi sono gli elettroni liberi i famosi responsabili per la conduzione della corrente elettrica sono solo quelli gli altri sono tutti bloccati quelli sono gli elettroni di conduzione questo livello si chiama livello di fermi questa F sta per fermi e questo si chiama mare di fermi questo insieme di elettroni che stanno qua se stiamo in questa situazione qua che succede? vedete, io applico il campo elettrico chi si può spostare? qua non si può spostare nessuno perché questi elettroni pure questi sopra qua devono arrivare fino a qua che potessi muovere ma questo salto di energia è grosso e il campo elettrico non ce la fa a darlo questo è un isolante la differenza del isolante è il conduttore il semplice dipende da dove sono arrivati a riempirsi gli elettroni naturalmente se metto un campo elettrico molto molto forte riesco a strappare l'elettrone da qua e lo butto sopra no? perché gli do l'energia dal campo elettrico a questo punto però una volta arrivato sopra l'elettrone libero di morsi comincerà a accelerare moltissimo perché c'è un campo molto intenso e negli ultimi rilascerà tutta questa energia al solido il quale si riscalderà molto raggiunge il punto di fusione e si brucia e quindi questo succede quando c'è una scarica per la sovraattenzione e l'isolante si brucia sta succedendo questo l'isolante sarebbe isolante ma se ci metto un campo così grande da mettere in moto gli elettroni poi questa energia del moto diventa calore e l'oggetto si brucia un'altra cosa interessante gli elettroni che stanno qua sono parecchi quindi si possono muovere abbastanza facilmente e sono quasi liberi in che senso questi che stanno qua chi sono? in questo disegno qua sono quelli che stanno qua stanno in questa zona qua no? non stanno sotto al gap stanno qua qua hanno una forma più o meno ancora parabolica del rapporto energia a momento quindi si comportano come particelle libere no? e questo è il concetto di portatore libero che tenevamo prima naturalmente attenzione a una cosa questa parabola la concavità di questa parabola la curvatura della parabola dipende dalla massa se cambia la curvatura cambia la massa questa curvatura qua non sta scritta nessuna parte che era uguale a quella che aveva la massa dell'elettrone quindi la massa di questa particella che sta qua può non essere un elettrone si parla di una massa efficace dell'elettrone che sta là perciò spesso si chiamano quasi particelle non particelle vero e proprio perché non è un elettrone completamente libero e basta ma è un oggetto che ha la carica di elettrone una massa che può essere differente dipende da come è fatta la curvatura e si muoverà liberamente sotto l'applicazione di un campo esterno vediamo a questo punto che succede se aggiungiamo la temperatura come ingrediente a questo discorso fino a che siamo a temperatura zero la situazione è questa se c'è un isolante qua non c'è la nostra speranza di fargli passare corrente ma se lo riscaldo che succede dove l'energia ha gli ioni gli ioni cedono energia gli elettroni si agiteranno un poco come si agiteranno chi più chi meno la temperatura è un fatto statistico c'è una curva che è la curva di Maxwell di distribuzione che mi dirà l'energia in funzione della probabilità di avere quell'energia in funzione di quanti ce ne stanno ci sarà qualche elettrone che avrà abbastanza energia da fare questo salto e quindi passare dalla banda di valenza alla banda di conduzione una volta fatto questo salto si trova improvvisamente libero si è scappato dalla gabbia e se c'è un campo elettrico si può muovere quindi l'oggetto è diventato conduttore e che è successo un'altra cosa pure è successo che dove lui se ne è andato ha lasciato il vuoto come dire qua tutto pieno uno si alza e se ne va resta la sedia vuota ma se c'è la sedia vuota l'elettrone a fianco si può muovere qua sottospinto da un campo elettrico però se si muove qua lascia una sedia vuota a sua volta e qui l'a fianco prima si può muovere così via visto da fuori è come se la sedia vuota si spostasse però la sedia vuota si sposta opposta a come si sposta l'elettrone perché è come se fosse una carica positiva questo oggetto si chiama lacuna no? è come se fosse una carica positiva e si muove liberamente come un elettrone sopra un po' meno liberamente perché il moto è un po' più complesso qua quindi è meno mobile di un elettrone però si muove nel stesso modo quando è che possiamo avere questa situazione? quando questo salto di energia non è troppo grande rispetto all'energia termica l'energia termica è d'ordine Kt il salto di energia nei solidi normali è d'ordine qualche elettron volt qualche elettron volt in termini Kt con una temperatura di 10.000 Kelvin quindi dovrei partire a portare 10.000 Kelvin in isolante per farlo diventare conduttore in questo modo nel frattempo si è già bello squaiato però ci sono alcuni materiali che hanno questo salto molto piccolo chi sono questi materiali? i semiconduttori sono praticamente degli isolanti falliti cioè degli isolanti che sarebbero isolanti a bassa temperatura però avendo un gap molto piccolo la temperatura ambiente è sufficiente a portare un numero piccolo non grande di elettroni sopra solo quella coda di distribuzione perché tenete presente che il gap di energia in un semiconduttore è tipo 0.6 elettron volt Kt a temperatura ambiente è di 225 mili elettron volt quindi la coda della distribuzione saranno pochissimi gli elettroni che riesco a portare ma avendo 10 o 22 elettroni a disposizione anche pochissimi sono molti e quindi riesco a avere un passaggio di corrente e si comincia a capire anche un'altra cosa quella cosa anomala della resistenza in funzione della temperatura no? perché quando io aumento la temperatura è vero che aumentano gli urti però aumento pure i numeri di particelle ci stava pure n dentro le relazioni della conducibilità quindi aumentando con la temperatura le particelle ne porta molto di più e quindi la resistenza diminuisce e si spiega questa curva sperimentale che non si capiva quindi vedete che c'è voluta la meccanica quantistica il modello a bandi il terreno di blocco complicato riusci a capire perché i semi conduttori si comportano in quel modo e per capire perché come funziona il passaggio di corrente nei materiali e se andiamo a vedere appunto in termini di conducibilità classifichiamo gli oggetti vediamo che mentre gli isolanti hanno una conducibilità bassissima 10 a meno 10 10 a meno 20 ohm per centimetro a meno 1 i semi conduttori rimane 10 a meno 6 a 10 alla 3 a seconda del materiale della composizione possono avere delle conducibilità intermedie i metalli non li vedono proprio a 10 alla quarta 10 alla 6 conducono molto meglio perché hanno tutti gli elettroni disponibili per portare la corrente non solo una fettina e poi c'è una classe di diversi superconduttori in cui semplicemente sigma infinito cioè lo posso portare in teoria una corrente senza dissipazione non in teoria in pratica senza alcuna dissipazione se li mettiamo su un grafico abbiamo la stessa cosa qui abbiamo i metalli vedete la conducibilità molto elevata qui abbiamo i semi conduttori sui semi conduttori e qui abbiamo i isolanti sia quelli inorganici che organici le plastiche e vedete l'ordine di grandezza come cambiano molto nella conducibilità la cosa che rende interessante questi oggetti è che in qualche modo essendo intermedi io qua ci posso giocare con questi per cercare di cambiare la loro conducibilità e quindi mentre qua se tengo il rama il rama è quella che c'è questi materiali se io ci gioco sopra posso fare qualche cosa è questo che ha attratto l'interesse sui semi conduttori e infatti giocare per giocare che cosa faccio? ci metto delle impurezze controllate invece quindi parto da un semi conduttore molto puro cristallo molto puro e poi ci metto invece di si si come no ma il transistor è stato inventato e sperimentato applicato sulla teoria è stato inventato applicato la teoria questo lo possiamo vedere dalla scala temporale eccolo qua il transistor è inventato nel 47 tutta la teoria è stata fatta nel 30 dopo che è stata tutta fatta risultata che era quantissimo per spiegare i singoli atomi dai singoli atomi sono messi insieme e fattori hanno capito la struttura a bande dalla struttura a bande poi hanno pensato come sfruttare questa cosa per farci qualcosa di utile ci sono voluti una ventina di anni però poi le hanno fatte no loro ci studiavano a casa hanno avuto il premio Nobel sennò non veniva dato nel senso che i loro studi erano indirizzati tant'è che loro cominciano nel 36 la bel telefono cominciò un programma per studiare i semi conduttori e che qualcuno già allora avevano un'idea che questi potessero sfruttare di fare qualcosa quindi qualche conto se l'hanno fatto ovviamente ci hanno messo un po' di tempo e il motivo che ci hanno messo tempo è perché i materiali non erano abbastanza puri quindi per poterlo dimostrare io ho fatto tutta la teoria poi lo devo fare sperimentalmente però il pezzo di silice che riesco ad avere c'è un numero di impurezza troppo grande e non riesco a controllare la cosa allora hanno dovuto sviluppare la tecnologia per fare il materiale più puro e sono riuscito a dimostrare la funzionalità e tutto lo sviluppo successivo della tecnologia che continua ancora oggi va sempre in questa direzione migliorare la purezza e migliorare le prestazioni allora veniamo qua al gioco del del drogaggio come si dice in termine tecnico cioè che succede se apposto un atomo di silice ci metti un atomo di fosforo l'atomo di fosforo è pentavalente cioè ha 5 elettroni sullo scelpe esterno 4 di questi felicemente faranno il legame covalente con i 4 silici che stanno vicini ma il quinto elettrone sta là un po' non sa che fare e in effetti sta legato debolmente qua perché poi la carica elettrica che lo lega l'atomo diventa schermata da tutti questi che stanno attorno e quindi abbiamo un elettrone che facilmente si può staccare da qua e andarsene in giro questo è un modo per raccontare la cosa questo tipo di drogaggio si chiama drogaggio tipo N perché ha un elettrone in più la carica complessiva è sempre zero non è che è carico perché l'atomo è neutro però abbiamo una carica che si può muovere a temperatura zero è localizzata qua però come vedremo poi questa a temperatura ambiente si delocalizza molto facilmente perché è molto più debolmente legata di questi altri elettroni si può fare il gioco inverso piglio il boro e faccio il boro è trivalente quindi i tre si legheranno e resterà un buco questo buco può essere riempito da un elettrone che sta in giro ma se il giro va là lascia un buco in altra parte e quindi abbiamo un buco mobile questo buco si chiama lacuna questo oggetto si chiama accettore perché accetta un elettrone mentre quello di prima lo donava e quindi è un donore e questo è un drogaggio tipo P perché genera una lacuna che è una carica positiva quindi questa è la struttura questo è il drogaggio col fosforo qui abbiamo elettroni in più questo col boro c'è una lacuna in più praticamente che succede? se vado a rifare i conti delle bandi di energia col drogaggio anche con un drogaggio che tipo uno ogni miliardo cambio non sono drogaggi alti uno ogni miliardo anche meno gli elettroni di atomi lo cambio viene fuori che nella zona proibita compare uno stato possibile uno stato dovuto alla presenza di questi donori in particolare se ci sono donori fosforo questo stato compare vicino alla parte finale in alto della zona proibita se sono accettori compare degli stati disponibili possibili qua vicino alla parte inferiore allora quello che succede è la stessa cosa se siamo a temperatura zero questo resta un isolante perché questo è tutto pieno di elettroni non c'è spazio sopra i elettroni per muoversi e quindi è isolante ma se alzo la temperatura questo salto di energia è molto piccolo quindi a temperatura ambiente e voglia che saltano praticamente tutti quelli disponibili che sono qua se ne saltano sopra quanti ce ne stanno qua? quanti atomi di fosforo ho messo? ma chi li ha messi di fosforo? io quindi io posso controllare esattamente quanti portatori ha quel materiale c'ho una manopola che non ho con nessun altro materiale in natura perché posso decidere esattamente quanti portatori tiene mettendoci in numero di atomi fosfori che io voglio stessa storia lo faccio col boro alla maniera la temperatura di elettroni da qua salteranno qua e riempiranno tutti questi stati quanti ne salteranno? quanti stati stanno qua? cioè quanti atomi di boro ho messo? e li lasceranno tante lagune qua sotto quindi questi oggetti a temperatura ambiente si comporteranno vediamoci eccolo qua a temperatura ambiente praticamente sono tutti quanti sopra questo è un tipo N tutti i elettroni sono qua saltati qua a temperatura molto bassa sia quello che si chiama freeze out cioè solo qualcuno riesce ad avere un po' di energia per saltare sopra a temperatura molto molto alta saltano perfino quelli da sotto sopra e quindi c'è un comportamento che avrei anche con il semiconotore non drogato quello che si chiama intrinseco però a temperatura ambiente quello drogato mi porta dei portatori che in modo significativo è controllabile da me e ovviamente questo qua mi dà una una manopola molto importante perché mi ingegnerizzo il materiale come voglio a questo punto così ho l'appetito ben mangiando l'idea qual è? allora prendiamo lo stesso materiale metà lo facciamo P e metà lo facciamo N vediamo che succede che immaginiamo che succeda nella metà quindi P metterò gli accettori le metà N metto i donori qua c'è un eccesso di elettroni ma la carica è sempre zero sono solo elettroni mobili che stanno là e qua c'è un eccesso di lacune mobili ma la carica complessiva è sempre zero però che succede a questo punto? gli elettroni che stanno qua vicino all'interfaccia vedono le lacune dall'altra parte e si vanno usando energia più bassa vanno a saltare nelle lacune ma quando l'elettrone da qua passa qua si sposta una carica no stessa cosa lo fanno le lacune da qua che vanno verso gli elettroni c'è uno sbilanciamento di cariche no? quindi un'immagine di patola che succede? tutte le elettroni si vanno qua vanno a riempire queste e si azzera tutto no quando l'elettrone va qua abbiamo una carica negativa qua e una carica positiva cioè indietro il prossimo elettrone che vuole saltare vede una carica negativa davanti vede una controforza ma a un certo punto che succede? queste due cose questi effetti la voglia di come si dice? l'effetto di differenze di gradiente cioè la concentrazione più alta qua è vuota là che spinge da quella direzione il campo elettrico che si fa mano a mano che si vanno a accumulare altrimenti quella parte si bilanciano fino a che non passa più niente il risultato di questo bilancio è che c'è un forte campo elettrico che va in questa direzione che si è creato da solo nel materiale non ce l'ho messo da fuori questo è l'elemento chiave di questa cosa che si chiama aggiunzione Pn ovviamente che è l'elemento chiave del diodo lo si può capire se volete da qua se io li metto vicini gli elettroni che stanno qua nella zona n vedono un lacune qua e se ne vanno da qua mano a mano che si spostano questo qua si carica la sua energia potenziale cresce e quindi questo disegno shift da verso l'alto fino a che questo livello qua non raggiunge questo a questo punto non c'è più passaggio di carica da una parte all'altra e si è creato un campo elettrico che sta qua dentro questa zona dove c'è il campo elettrico è una zona molto stretta si chiama zona di carica spaziale zona di svuotamento è almeno di un micron è una cosa proprio piccolissima però c'è un campo elettrico forte là dentro e lì non ci sono cariche là dentro perché quelle che c'erano mobili se ne sono andate l'oggetto è isolante in quella zona e c'è un campo elettrico però può trasportare cariche solo che è un deserto perché se sono tutti quanti andate via che succede a questo oggetto se io ci applico una batteria e cerco di farci passare corrente ovviamente essendoci un salto un campo elettrico interno dipende se questo campo che metto da fuori va a favore o contro questo campo elettrico interno se va a favore o aumenta aumenta ancora effetti potenziali e non ci passano ancora meno cariche ma se lo diminuisco faccio passare le cariche quindi quello che succede è che in un verso la corrente riuscirà a passare perché mette la polarità in un certo modo e in un altro verso la corrente non passerà quindi ho fatto un oggetto che è asimmetrico dal punto di essere passaggio di corrente che è la cosa fondamentale elettronica del diodo il motivo per cui sono fatti di odio a valvole che era l'elemento elettronica quando si facevano le valvole termoioniche elemento base la modistica tensione e corrente se metto un grafico qua metto la tensione qua la corrente che ci passa per tensioni positive per definizione si intende quello in cui la corrente passa un passato di corrente che cresce sostanzialmente esponenzialmente all'aumentata della tensione e d'altra parte non si capisce quando abbiamo una barriera di potenziale il passaggio è sempre esponenziale il numero di particelle che passano se andiamo nella direzione qua abbiamo correnti su scale di qualche mille ampere ad esempio se andiamo nella direzione apposta in cui la barriera aumenta la corrente che passa pure c'è un po' di corrente è massimo sulla scala dei micro ampere c'è una minima corrente che riesce a passare ma poca questa minima corrente che riesce a passare a chi è dovuta è dovuta al fatto che questi non passano più ma ci sono sempre a temperatura ambiente un poco di cariche generate per attivazione termica dalla base di sotto dalla banda di valenza direttamente sopra qua e quelle saltano e poi riescono a passare e questo da questo piccolo di corrente che passa nel diodo se si mette insieme questo si fa questo discorso fatto a parola del bilanciamento tra diffusione e drift come si dice cioè tra corrente dovuta a differenze di concentrazione e campo elettrico che si forma mano a mano e che le cariche si spostano si viene fuori un'equazione che bilancia che si può scrivere in termini di tensione e corrente l'equazione che viene fuori eccola qua è questa questa è l'equazione che dice quanto va la corrente nel diodo in funzione della tensione applicata B ha dei parametri icon S si chiama corrente di perdita ed è il valore di questa corrente qua sostanzialmente Vt è un altro che una costante K e T su E la costante di bolso è una temperatura assoluta diviso la carica di elettrone Eta è un parametro si chiama parola di realità è tipicamente 1 va da 1 a 2 a secondi come è del semiconduttore che si utilizza è 1 e 1 quindi vedete che questa è una funzione che collega I con V dipende dalla temperatura e da costante in giro l'unica costante diciamo I con S è una costante fabbricativa che dipende da questo materiale che I con S sia questo si vede facilmente se mandiamo V a meno infinito elevato a meno infinito va a 0 e questo dipende I uguale a meno I con S quindi è proprio l'asintoto a cui va questa curva questo è un esempio per esempio si può assegnare un CO2 quanto vale con S DO quanto vale la temperatura e dico che è uguale a 1 ed ho definito perfettamente come è fatta questa curva e quindi posso dire di studiarla di farci dei conti di farci le cose come vedremo fra poco torniamo un attimo indietro allora questo è un diodo lo rivediamo questa è la struttura del PN dei due lati in condizione di 0 bar cioè senza applicarci la tensione esterna non c'è passaggio di corrente e c'è questa differenza di potenziale che ci sta interna i due livelli difendici sono alineati se alimentiamo con la posizione diretta si abbassa la barriera di potenziale il gradino diminuisce ci sta passaggio di corrente qua lacune che vanno in qua e elettroni che vanno in qua se polarizzo al contrario l'impolizzazione inversa la barriera potenziale aumenta e non riesce a passare praticamente niente gli unici che possono passare sono quelli che attivano termicamente da qua qua sopra e poi passano ma sono pochissimi perché il salto del gap a temperatura ambiente sono pochi elettroni che passano da quella piccola corrente di perdita questo è un diodo normale si chiama diododertificature lo stesso diodo lo posso usare o posso funzionare come un fotodiodo cella solare o led che succede? immaginiamo di stare per esempio in polarizzazione diretta un elettrone che sta passando qua vede c'è una lacuna qua sotto perché non la vado a chiudere? e salta e va a occupare il posto della lacuna quindi va a tappare quello spazio ma scendendo giù qua questa energia che fine fa? l'energia viene messa come un'elettromagnetica se il il semiconduttore ha l'allineamento nella reazione energia a momento del massimo col minimo e quindi abbiamo l'emissione di luce abbiamo un led che se ci passa la luce un diodo si passa la corrente e mette luce il diodo led le nostre lambadine da oggi in poi in casa tutte fatte così e funziona il led del rosso non a casa il primo led del rosso mette luce nello spettro del rosso e quindi il led per fare altri colori sono valuti anni e anni in studio per trovare altri materiali e per arrivare fino al bianco diciamo una cellula solare che fa? fa un po' l'opposto io sto in questa situazione arriva un'elettromagnetica da fuori viene assorbita da un elettrone che sta qua e lo spara qua sopra quando succede questo? se l'energia del fotone elettromagnetico è maggiore di questo salto di energia la luce visibile l'energia è dell'ordine di 1-2 elettronvolt su 2 elettronvolt questo qua si dice 0,6 elettronvolt quindi ce la fa benissimo a spararlo sopra e quindi che succede? questo che sta qua ha pigliato e l'ha sparato sopra ha creato un elettrone e lascia una lacuna qua quindi abbiamo un effetto opposto arriva un'elettromagnetica un elettrone salta nella banda di conduzione e lascia una lacuna nella banda di valenza che succede a questo punto? si aspetta l'elettrone la piglia e se ne torna giù dopo un poco è finita la cosa e questo è quello non vedrai niente però attenzione se questo meccanismo succede non in un punto qualunque del diodo ma torniamo indietro qua in questa zona qua nella zona dove c'è il cambio elettrico se succede qua nella zona diciamo lontana dalla barriera come dicevo io si crea la coppia elettroni e la lacuna e tutti quelli si ricombinano cioè l'elettrone vede la lacuna sotto e lo chiude e buona notte c'è dell'energia il reticolo si è scaldato un po' con il silicio ma se succede qua l'assorbimento qui c'è la coppia elettroni e la lacuna come crescono vedono che c'è un campo elettrico e il campo elettrico spinge l'elettrone da una parte e la lacuna dall'altra parte quindi le butta una da un lato e una dall'altra quindi avremo una carica buttata da un lato e una dall'altra parte se qua c'è un filo che li collega queste cariche gireranno per chiudersi e avrà una corrente circolante quindi l'assorbimento di luce ha girato la corrente circolante e ho fatto una cella fotovoltaica e in effetti la cella fotovoltaica è esattamente questo è un diodo in cui invece di avere i due contatti di metallo che lo chiudono completamente uno dei due contatti è strasparente se non la luce dove passa quindi è fatto con una griglia metallica mentre quello sotto è chiuso la luce penetra da sopra va a finire qua crea una coppia elettrone-lacuna perché c'è energia l'elettrone e quello lo fa saltare nella zona di conduzione questi qua si spostano a caso del cambio elettrico che sta intrinseco nel diodo uno da una parte uno dall'altro e se ci attacco possiamo vedere qua c'è un disegnino più carino se ci attacco una lampadina ci passa la corrente si accende la lampadina dovrei mettere un led ma perché la lampadina non si possono mettere più quindi dovremmo aggiornare naturalmente questo funziona bene se l'assorbimento avviene vicino alla barriera se avviene lontano questa cosa non funziona perché si ricombinano quindi chi fa celle solare cerca di ottimizzare i processi di fabbricazione per far sì che questa cosa succeda nel modo migliore possibile parlando della luce un piccolo una piccola parentesi perché lo utilizzeremo dopo la luce si misura in lux che è un'unità di misura un poco strana perché non è il sistema internazionale perché è legata alla sensibilità dell'occhio umano la sensibilità dell'occhio umano come sapete dipende dal colore per cui è mediata su uno spettro di colore allora ci sono una definizione per definirla per bene che è questa che dice che i lumen che sono i lux per la superficie come sono collegate ai watt ma vale per una specifica frequenza se lo vogliamo utilizzare per una soluzione luminosa per esempio per il neon che stanno qua o per il sole bisogna dare conto dello spettro di frequenze delle varie soluzioni luminose e quindi c'è un fattore moltiplicativo che correla il lumen quindi la quantità di luce emessa che arriva sull'oggetto con i watt potenti sistema internazionale di energia luminosa che arriva quindi se voglio sapere in questo momento su un 10 cm quadri di qua quanta energia luminosa arriva misuro con lux moltiplico per l'aria ottengo i lumen e una lampada fluorescente moltiplico per questo numero qua ottengo i watt anzi divido per quel numero ottengo i watt di luce che stanno arrivando che ci faccio con questa cosa? ci faccio questa cosa qua che succede a una cellula solare quando arriva la luce? si genera questa corrente addizionale dal punto di vista matematico la curva del diodo come si modifica? in modo molto semplice compare una costante qua questa corrente costante aggiuntiva è proporzionale all'innesità luminosa che sto mandando alla potenza luminosa quindi quella che era una curva immaginate questa quella del diodo che faceva così che passava per zero questa è una costante negativa questa è positiva quindi è sottratta l'effetto della luce è di spostare la curva verso il basso fa uno shift della curva verso il basso più intensa la luce che arriva più si sposta giù la curva e queste tutte che me ne faccio? al momento il campo elettrico del del getto lì è quello opposto a quello del no qui non c'è campo applicato se vogliamo posso stare a zero ma perché guardiamo la parte di capito? eh ma ci arriviamo un attimino a questa cosa qua in realtà la parte importante è questa perché? ragioniamo un attimino sulla caratteristica V eccola qua questa è tensione ai capi del diodo corrente che entra nel diodo no? sapete che la potenza è prodotto V per I quindi se sto in questo punto qua di polarizzazione prodotto I per V mi da la potenza che entra nel diodo no? se sto su questo quadrante dove sia V che I sono positivi la potenza è entrante cioè il diodo consuma corrente se sto in questo quadrante sono entrambi negativi la potenza è altrettanto positiva e quindi è entrante se sto in questo quadrante sto generando energia infatti lui non ci passa quando però mandiamo la luce questa curva scende giù e occupa questo quadrante qua in questo quadrante abbiamo V positivo e I negativo la potenza assorbita è negativa che significa che è fornita in questo quadrante la cella sta fornendo energia all'esterno che è quello che noi vogliamo vogliamo convertire luce in energia quindi quello che a me serve è capire questa qua sfruttare questo tant'è che chi lavora con le celle solari che fa per semplicità questa cosa la gira al contrario per non lavorare con numeri negativi la gira al contrario e fa grafici di questo tipo qua quindi questo è lo stesso grafico che ho girato in dark se ci manda luce arriviamo qua dopodiché ci poniamo un problema cioè ci poniamo una domanda più che un problema io mi metto in questo punto qua e c'è una certa potenza fornita quant'è la potenza fornita? I per V se sto qua nel punto di massima corrente quant'è la potenza fornita? è zero perché V è zero e se mi metto qua nel punto di massima tensione la potenza fornita pure è zero perché la corrente è zero quindi patto da zero e patto a zero qui ci sarà un massimo lungo questa curva e il punto supponiamo che sia questo corrisponderà a quello in cui questo lario di questo rettangolo è massima questo qua è il punto dove mi conviene far lavorare la cella perché è un punto in cui estraggo la massima potenza cioè a parità di luce che sta comunque andando sulla cella se non mi metto a assorbire in modo giusto la potenza l'ho persa quindi io mi devo mettere in questa condizione qua a questo punto possiamo immaginare un esperimento che possiamo sia fare veramente a ragazzi sia faiolo simulare del tipo immaginate avere un diodo una cella solare quindi vi do le costanti che stanno qua e il radiato con una certa quantità di lux vi do la superficie della dimensione della cella quindi potete calcolarvi lumen sapete che se sotto al sole c'è quel fattore di conversione sapete quanta potenza di luce ci arriva questa cella viene caratterizzata facendo la curva IV la possiamo caratterizzare o perché vi ho dato la forma geometrica oppure perché vi do delle misure fate le misure mettete varie resistenze di carico misurate la tensione qua la corrente ovviamente la potenza è il prodotto di queste due vedete la potenza va da zero ho massimo e poi torno a zero posso ricostruirmi il grafico della curva e quindi il punto di massima potenza dopodiché questa è la massima potenza che esce quella che è entrata l'ho calcolata faccio il rapporto e mi calcolo l'efficienza della cella quindi posso fare una misura in laboratorio ma anche simularla con i numeri con i conti e calcolare l'efficienza di una data cella solare no? quelle reali le cella solare arrivano fino al massimo diciamo 10-15% di efficienza però se io spendo molti soldi posso fare efficienza più alta se voglio risparmiare più le cella solare policristalline ha un'efficienza più bassa però quelli sono i numeri tipici e questo è un modo per poter fare questa cosa quindi lo riassunto qua quindi misura la metà di luce incidente con un luxmetro o l'assegno converto il lux in lumen moltiplicando la metà della cella converto il lux in watt il lumen in watt e quindi c'è la potenza della luce utilizzando la tabella che abbiamo visto misura l'attività insieme al corrente della cella sotto illuminazione oppure uso la curva calcolo il punto di realizzazione in cui il prodotto ipervii è massimo posso farlo pure graficamente cercando il punto di massimo il rettangolo con l'area massima che sta là e mi faccio il rapporto e tengo l'efficienza quindi posso farlo sia cercando di farlo analiticamente sia seminaliticamente quei punti sia praticamente noi il laboratorio lo facciamo praticamente con i ragazzi del PLS quindi è una cosa molto simpatica per loro e quindi questo se volete siamo partiti dai massimi sistemi e siamo arrivati a una cosa molto pratica che è una misura che si può fare però con il bagaglio di conoscenze ci fa capire che queste cose qua non è un oggetto che funziona e bassa ma ci sta dietro tutta una conoscenza che è stata sviluppata su come funziona a livello microscopico la materia partita dalla meccanica quantistica se non c'era meccanica quantistica tutto questo non esisteva perché chi se l'immaginava la teoria a bande e tutto il resto e chi poteva fare i conti su queste cose invece con questo bagaglio di conoscenza primi 30 anni del 1900 altri 30 anni per sviluppare i primi dispositivi e poi tutto lo sviluppo successivo è stato possibile ingegnerizzare dei materiali fatti apposta per avere certe prestazioni e risultato l'abbiamo davanti tutti quanti perché abbiamo un'elettronica che ci semplifica la vita e ci migliora tutto ogni giorno tutto questo è tutto frutto di questa conoscenza va bene ci fermiamo qua